Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento dedicato all'informazione e alle notizie di oggi. L'Ordine dei Medici di Milano chiede allo Stato un indenizzo per i dottori e il personale sanitario che hanno perso la vita o la salute lavorando in prima linea nella lotta al coronavirus. Bisogna riconoscere concretamente il sacrificio di tutti i moderni militi ignoti, ha spiegato il presidente Roberto Carlo Rossi. Vanno risarciti i superstiti di chi ha perso la vita o chi ha contratto il virus con conseguenti lesioni permanenti. E sono quattro i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino regionale che porta il totale dei casi a 19.225. I deceduti totali da inizio epidemia sono 1987, ne vengono registrati 5 in più rispetto a ieri, tutti registrati negli ospedali. Gli attuali positivi sono 680, meno 38 rispetto a ieri, i soggetti in isolamento sono 834, più 38 rispetto a ieri. Negli ospedali ricoverati in area non critica sono 254, meno 14, di cui 37 più 1 sono positivi al covid-19. Invariata la situazione nelle terapie intensive con 12 ricoverati, di cui 1 positivo. E questi erano i dati diffusi oggi nel quotidiano appuntamento con la stampa della regione Veneto. E parliamo adesso delle linee guida per i prossimi mesi. Stiamo parlando della ripartenza delle scuole dal mese di settembre. C'è attesa per capire come funzioneranno le cose. Ci sono già state delle linee guida condivise dalle regioni, ma naturalmente si attende l'ok da Roma. Sentiamo. Tutti in attesa di conoscere con certezza come sarà la vita tra i banchi di scuola per gli alunni che a settembre torneranno in aula. Il presidente Zaia ha fornito le linee guida proposte dalla regione. Misurazione della temperatura all'ingresso, distanza di due metri tra insegnanti e studenti, due metri quadrati per ogni alunno. A far discutere, la mascherina che sicuramente dovrà essere indossata fino all'arrivo al proprio banco, poi per il governatore dovrebbe essere tolta, fermo restando l'utilizzo nei corridoi. Queste linee condivise sono approntate dalla conferenza delle regioni. Manca però il parere romano. 11 categorie economiche. Il sistema camerale regionale del Veneto hanno scritto una lettera al presidente della regione, Luca Zaia, indicando un'agenda condivisa delle priorità in sei punti da portare all'attenzione del governo. Il primo punto riguarda il credito, che nei decreti del governo è inteso nel senso di un ulteriore debito di cui gli imprenditori devono caricarsi per molti anni a venire, in una regione in cui essi da sempre sono lontani dal cosiddetto capitalismo finanziato dallo Stato. Seguono le infrastrutture con penalizzazioni su treni e investimenti, la cablatura spostata di altri due anni a differenza di quanto accade in altre regioni, di gravissimo danno per tutti. La burocrazia, una zavorra dello sviluppo, si legge che ha raggiunto livelli ormai intollerabili e che rende assolutamente improcrastinabile l'avvio di una serie politica di deregulation. La promozione della politica estera e infine le risorse, i cui criteri per l'assegnazione, devono tener conto del contributo del Veneto all'economia nazionale e che metta fine al grosso squilibrio che contraddistingue da sempre il nostro paese. Questi i principali punti. Adesso invece abbiamo una notizia che arriva dal mondo della sanità veneta, esattamente dall'azienda ospedaliera di Padova. Parliamo di un intervento eccezionale eseguito su un uomo che aveva subito un incidente con l'amputazione della mano. Arto che è stato attaccato e il paziente sta bene. Sentite. È stata sciolta la prognosi del delicatissimo intervento su un uomo di 64 anni. Dopo oltre 50 giorni ha ripreso la vitalità della mano riattaccata con progressiva mobilizzazione attiva delle dita. L'eccezionale intervento chirurgico è stato effettuato in simultanea da due equip dell'unità operativa complessa di chirurgia plastica insieme ad un team multidisciplinare con ortopedici, anestesisti e personale infermieristico altamente specializzato dell'azienda ospedale Università di Padova. L'uomo, mentre utilizzava uno spaccalegna, aveva accidentalmente avuto un incidente con l'amputazione della mano. Nell'immediato si era rivolto al pronto soccorso di Mirano che ha avviato immediatamente l'iter per il trasferimento a Padova. Grazie alla competenza dei chirurghi padovani e alla tempestività dell'azienda ospedaliera l'arto è stato salvato e riattaccato al paziente. Si è trattato di un intervento chirurgico eccezionale molto delicato al quale ha lavorato un team composto da 7 chirurghi, 2 ortopedici e 5 plastici ricostruttivi, 3 anestesisti e 6 infermieri. L'ospedale di Padova fin dal primo contatto telefonico informativo avuto ha organizzato l'accoglimento del paziente secondo i criteri più idonei a garantire massima efficienza in tempi rapidi. Immediatamente allertato, il team multidisciplinare ha visto in prima fila due equip chirurgiche, una per preparare il pezzo amputato e l'altra per preparare il moncone al reimpianto. Il professor Cesare Tiengo, primo operatore responsabile dell'unità operativa di chirurgia della mano e microchirurgia di chirurgia plastica, ha eseguito il laborioso reimpianto, la cui principale difficoltà tecnica era rappresentata dal tempo limitato a disposizione per riperfondere l'arto e dal calibro esiguo delle strutture vascolari e nervose da riconnettere tra loro. La Procura di Milano sta iscrivendo in queste ore un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati al momento, sul caso del presunto finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro dal Venezuela al fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, che stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ABC, risalirebbe al 2010. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, che si sta apprestando a iscrivere il fascicolo nel registro della Procura. Si dovranno effettuare approfondimenti in primo luogo sull'autenticità del documento venezuelano alla base di questa inchiesta giornalistica del quotidiano spagnolo. Adesso invece dobbiamo parlare di un fatto di cronaca che arriva da Venezia, dove la polizia ferroviaria ha assistito una famiglia, padre e figlio, che erano in una situazione di estrema difficoltà, una situazione che per fortuna ha avuto un lieto fine. Padre e figlio viaggiavano in treno, il figlio è sceso alla fermata che era stata prefissata, l'anziano però no, non è sceso e non aveva il telefono con sé. Sentite come è andata. Storia lieto fine per un 82enne in viaggio con il figlio sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste. L'allarme è scattato quando l'uomo ha perso di vista il figlio e non è riuscito a scendere con lui alla stazione di Sandona di Piave, rimanendo bloccato a bordo del convoglio diretto a Trieste. Non vedendo scendere il padre e non potendolo contattare, in quanto era privo di cellulare, il figlio si è rivolto alla polizia. La segnalazione è così giunta al centro operativo della Polizia Ferroviaria per il Veneto, che comprese le dinamiche dell'accaduto, ha attivato le ricerche dell'ultraottantenne, contattando il capotreno del convoglio in questione. Grazie all'azione sinergica degli operatori polvere del personale di bordo di Trenitalia, l'anziano è stato rintracciato alla stazione di San Stino di Livenza, dove era sceso una volta realizzato di essere rimasto solo. Il figlio, contattato e informato del rintraccio, ha così potuto ricongiungersi all'anziano genitore. La Fenice riapre al pubblico nel mese di luglio con una serie di concerti cameristici e sinfonici e con un nuovo allestimento operistico. Non tutto però sarà come prima, la riapertura del teatro veneziano sarà nel segno del cambiamento, un cambiamento forzato dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti regole di salute e sicurezza imposte, ma le cui limitazioni sono state interpretate come idee per spettacoli teatrali musicali dal volto nuovo. A essere reinventato sarà proprio lo spazio. E adesso in chiusura dobbiamo parlare di meteo, ma lo facciamo con un servizio e sentiamo che cosa aspettarci dalle prossime ore, perché le condizioni rimarranno purtroppo di allerta almeno fino a venerdì mattina. Ancora rovesci e temporali in Veneto, allerta gialla in pianura e nelle aree prealpine. Sino alle prime ore di venerdì 19 in Veneto il tempo resta a tratti instabile, con probabili rovesci e locali temporali. Non sono esclusi locali fenomeni intensi, specie su zone piedemontane e pianura, nella giornata di domani anche sulle zone prealpine. Visti i fenomeni meteo previsti, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, ha diramato un avviso di criticità idrogeologica, allerta gialla, sulla rete secondaria di tutti i bacini idrografici del Veneto, ad esclusione del Bellunese. Nel caso di forti temporali si segnala la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone di allertamento del Piave-Piedemontano, dell'Alto Brenta, Bacchiglione-Alpone, dell'Adige Garda, nonché dei Monti Lessini. E con questo servizio siamo arrivati alla chiusura di questo spazio dedicato all'informazione e alle ultime notizie dal territorio. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.